Cresce ancora il numero dei defibrillatori in Val d'Arno. Un nuovo strumento salva vita in caso di arresto cardiaco è arrivato infatti a Terra Nuova e sono già stati formati alcuni volontari residenti in quell'area per utilizzarlo al meglio in caso di emergenza. Abbiamo installato un nuovo defibrillatore in Piazza dell'Unità Italiana nella settimana scorsa e questo sempre per proseguire in quella campagna di copertura di tutto il territorio comunale. Prima di installare il defibrillatore abbiamo fatto il corso dove abbiamo formato 19 cittadini che si trovano a vivere in prossimità di Piazza dell'Unità Italiana. Questo perché l'intervento diventa tanto più efficace quanto prima viene realizzato. Va ricordato del resto che le statistiche del Val d'Arno mettono la nostra zona al di sopra della media nazionale per interventi riusciti nell'immediato post-arresto cardiaco. E la cultura dei defibrillatori ovunque si sta inserendo in un numero sempre più elevato di cittadini.